Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Filippo Scalisi, formo parte del laboratorio di archeologia forense dell'Università Autonoma di Madrid e vengo a presentarvi parte dei risultati ottenuti dallo studio antropologico dei resti ossei provenienti dal cimitero della Tavona di Euclés. Il sito si trova a un centinaio di chilometri dalla capitale, nella provincia di Cuenca, dove troviamo appunto il paese di Euclés e l'omonimo monastero. Durante gli anni della civile spagnola, quindi dal 1936 al 1936, questa struttura viene utilizzata come ospedale di seconda linea dall'esercito popolare della Repubblica. Il monastero si trova infatti in una posizione strategica lungo l'asse Madrid-Valenzia e riceve provenienti dai fronti di Madrid, Guadalajara e Teruel, oltre ai civili delle zone circostanti. Una volta finita la guerra, durante tre anni, dal 1940 al 1943, viene utilizzato come prigione o campo di concentramento dal regime franchista. In questa diapositiva possiamo vedere la localizzazione del monastero in alto sulla collina e il recinto in basso del cimitero della Tavona, dove sono stati condotti i cimiteri. Il paese si trova al lato opposto della collina rispetto al cimitero. I lavori di scavo hanno portato alla luce oltre 250 fosse, contenenti un totale di 429 individui. Siamo stati in grado di distinguere tre zone di sepoltura, diverse tra loro per tipo di intervento, causa della morte e persone allevoli che erano destinate. Passo ora a descrivere, settore per settore, le sue caratteristiche. Il settore 1 rappresenta un luogo di sepoltura rapida e discreta, con le ingenti quantità di feriti provenienti dal fronte, durante la fase di guerra e quindi l'uso del monastero come ospedale. In questo settore sono state riscontrate 108 fosse, contenenti 188 individui. grandi fosse longitudinali, salvo pochi casi eccezionali, orientate est e destinate ai soldati che morivano in seguito a ferite da guerra o a civili che morivano durante i bombardamenti o comunque per le condizioni generali della guerra. Tutte queste sepolture sono in feretro di legno, fatta eccezione per alcune delle ultime in un mattino. Di norma contengono uno o due, tranne una decina di casi dove troviamo al massimo tre, quattro individui. In tutte queste sepolture i corpi sono stati deposti in supinamente. Qui vediamo degli esempi. È molto comune trovare in questo settore individui a cui sono state effettuate autopsie o amputazioni o addirittura un materiale chirurgico ancora in sito come nel caso qua a destra che abbiamo dei cateteri di drenaggio accanto ai corpi o a sinistra un individuo e interrato con il torso. Qua abbiamo un caso di amputazione quindi di un piede dalla caviglia in giù manca anche un altro caso che non si vede adesso e abbiamo vari esempi appunto di individui sui quali sono state effettuate autopsie qui abbiamo il caso di un bambino quindi popolazione civile morto in caso forse a bombardamenti o comunque in sé della guerra e poi è frequente osservare ferite portate durante la guerra come una frattura di ulna o un femore con una cancrena che ha portato all'amputazione del membro passiamo al settore 2 o zona centrale è uno dei due settori utilizzati durante il dopoguerra quindi come utilizzo del monastero come prigione in questa zona sono state ritrovate 20 fosse con 73 individui dentro dove la fossa più grande contiene 9 individui sono tutte fosse comuni grandi con diversi orientamenti e disordinate tra loro destinate ai prigionieri non religiosi che venivano iniziati qui possiamo vedere un esempio di una fossa con vari individui ammassati uno sopra l'altro qua un altro esempio delle sepolture ritrovate in questo settore tutti presentano chiari segni di essere stati giustiziati quindi di morte violenta possiamo vedere qua l'impatto di proiettile nel craneo o qui altri esempi di colpo di grazia o traiettorie di proiettile nel craneo o nel bacino per ultimo il settore 3 è stato utilizzato durante il dopoguerra ma in questo caso ai prigionieri credenti cattolici in questa zona sono state ritrovate 137 fosse con 168 individui dentro è un settore grande e ordinato con fosse tutte con lo stesso orientamento e l'89 per cento di queste sono fosse individuali il 50 per cento sono sepolture in bara di legno il restante 50 per cento sono sepolture semplici questo dato ci permette di differenziare gli individui che sono stati giustiziati da quelli che morivano per cause naturali quindi condizioni di vita tristissime alle quali erano durante la prigionia o per i che subivano vediamo quindi i due tipi di interramento di questo settore in questo caso è un interramento individuale in cassa di legno dove l'individuo non presenta segni di violenza e il secondo tipo dove non osserviamo la barra di legno l'individuo è posto in posizione prona e presenta evidenti teperi morte d'arma da fuoco qua vediamo degli esempi con appunto un cranio con ancora la pallottola incastrata nel cranio o la traiettoria di un proiettile che attraversa l'ilio possiamo quindi concludere dicendo che dei 429 individui ritrovati il 48 e il 44 per cento appartengono alla fase di ospedale il restante 56 per cento sono individui morti durante il dopoguerra quindi la fase di carcere tra questi il 66 per cento sono prigionieri che sono stati giustiziati il 34 per cento sono prigionieri morti per cause naturali da questo grafico possiamo vedere come il settore 1 contiene in poco spazio indicando la rapidità nel seppellire le incendi quantità di vittime provenienti dal fronte nel settore 2 abbiamo poche fosse ma grandi mentre nel settore 3 sono fosse individuali ordinate in uno spazio grande infine possiamo vedere come nel caso dei morti avvenuti durante la guerra sono stati trattati con un certo rispetto tranne forse nelle ultime inumazioni dove forse per l'avvicinarsi della guerra o per il ritiro dei fondi britannici all'ospedale i seppellimenti sono stati fatti con più ancora più urgenza nel secondo settore sono stati seppelliti senza nessun tipo di rispetto ammassati nelle fosse dagli stessi armari che avevano eseguito condotto l'esecuzione mentre nel settore 3 troviamo differenze di trattamento per i morti per i morti che venivano giustiziati e per i morti che morivano per causare i morti che venivano trattati o seppelliti con un po' più di cura va inoltre detto che appunto esiste differenza di trattamento tra i prigionieri credenti e quelli non credenti e voglio sottolineare anche come per accedere ai due settori utilizzati nel dopoguerra si passava sopra il settore dell'ospedale repubblicano calpestandolo quindi in segno di disprezzo alle morti repubblicane con questo ho finito grazie mille a tutti grazie grazie grazie